Abbiamo già provveduto ad acquistare 5 strumenti che si chiamano saturimetri che ci permettono un monitoraggio in continuo di alcuni parametri vitali come la saturazione dell'ossigeno piuttosto che la frequenza cardiaca. Questi sono strumenti che sono sempre più utilizzati dal neonato proprio già appena nato già in isola neonatale fino all'adolescente 18 anni che noi studiamo come fascia d'età e nonostante appunto siano strumenti che ovviamente anche l'azienda ci procura non sono mai sufficienti per tutte le esigenze che soprattutto in una stagione come questa stiamo avendo. Quest'anno abbiamo riscontrato veramente tantissime affezioni respiratorie con problemi di proprio insufficienza respiratoria. Questi bambini pertanto devono essere monitorati in continuo e questi strumenti ci danno una grandissima mano per tutte le nostre attività come dicevo dalla sala parto al pronto soccorso pediatrico a riparto.